Cari amici di Chimerarevo, nei giorni scorsi vi avevo promesso una video guida su come installare Ubuntu Touch sul nostro Nexus 5. Quindi è arrivato il momento, andiamo subito a vedere come fare. Bene, dopo aver scaricato i due pacchetti, i cui link li trovate nella descrizione, e aver installato Multirom, siamo finalmente pronti ad installare Ubuntu Touch sul nostro Nexus 5. Prima cosa da fare è spegnere il dispositivo e riavviarlo in recovery. Una volta arrivati in recovery, tutto ciò che dobbiamo fare è scegliere Advanced, Multirom, selezionare la voce per aggiungere una nuova ROM e scegliere Ubuntu Touch. Premiamo il pulsante Avanti e ci verrà chiesto di selezionare due file che abbiamo scaricato. Andiamo subito a selezionarli. Una volta selezionati i due file, li vedrete comparire qui sotto e siamo pronti a premere il pulsante di installazione. L'installazione richiede qualche minuto. Una volta installato verranno occupati più o meno 2 GB di memoria nella nostra memoria interna. Una volta finita l'installazione, basterà riavviare il dispositivo e Multirom ci permetterà di scegliere tra le ROM installate anche la ROM di Ubuntu Touch. Una volta completata l'installazione, riavviamo il dispositivo e ci comparirà il seguente menu dove troveremo le nostre ROM installate. Potremmo scegliere di avviare Ubuntu Touch. Il primo boot potrebbe richiedere molto tempo, quindi abbiate veramente pazienza. Sembrerà che il telefono si sarà piantato sulla scritta Google, in realtà starà lavorando. Dategli tempo. Una volta avviato ci troveremo di fronte alla lockstream di Ubuntu Touch. Una volta avviata, ecco cosa si presenterà davanti. La build che vi ho linkato è quella con già presenti tutti i fix che io ho fatto per sistemare l'interfaccia. Come potete vedere non abbiamo più 5 icone per riga, ma ne abbiamo 4. E le applicazioni non si aprono più in modalità 6 stage. Bene, anche per oggi è tutto. Se avete riscontrato difficoltà nella procedura, scrivetelo pure nei commenti. Sarò felice di aiutarvi. Per favore non utilizzate i commenti per bug report, in quanto al momento non c'è possibile fixare nessuno dei bug presenti, non avendo i sorgenti disponibili. Qualcuno dice che potrebbero essere disponibili addirittura questa sera, qualcuno dice entro alla fine della settimana. Vi teremo aggiornati, continuate a seguirci se volete avere altre informazioni. Anche per oggi è tutto, salve ed arrivederci.